Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale E' passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho fatto un gameplay Quindi oggi ci ributtiamo in Dead by Daylight Lo sapete già come funziona se non lo sapete Guardate il primo video Se lo sapete Guardate il video Come al solito muniamoci del nostro sopravvissuto Io sceglierò Clodet Perché ha delle abilità che mi piacciono Non so se mi spiegono Sono successe tante cose in Dead by Daylight E' uscito il nuovo killer Sono usciti i nuovi sopravvissuti E' cominciata la partita Odio questa mappa Perché La odio La odio Già così? Come si è lasciato morire? E' cominciata la partita E' cominciata la partita Quanto sono stupido Ma la sono cercata Ok Mi sta bene Salvatemi Diciamo che speravo in una partita un po' più gloriosa Salvatemi Salvatemi Gampo Shout out to Gampo per avermi aiutato Hanno appeso Hanno appeso Ananas Ma perché? Perché prende sempre me? Spiegatemelo No Dovevi essere più surdo Ciao mondo Ti ho voluto bene Che ci volete fare? La vita E Claudette muore Non so perché Ma le cose belle Non ce le ho mai Oppure le uso sempre tutte quante Quindi non è che posso munire l'ori di Muoviti Luke George Eban Ed eccoci qui di nuovo con Lori Nei campi putrefatti E una persona si è disconnessa Bene Un'altra cosa si è disconnessa Quella maledetta però gli stava davanti Cioè Cioè Sì. 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 Ok, andiamocene da tutt'altra parte della mappa, perché non ho voglia di rivederla? AAAAAH! Non mi avevi neanche preso! Oh no, questa maledetta stronza! Nessuno sfugge alla morte! No! Aiuto, aprilo! Ciao! Fregata, killer! Maledetta! Che ha aiutato nessuno sfugge alla morte con solo tre sopravvissuti. Ve l'avevo promesso l'ultima volta, facciamo una partita come killer. Allora, mi piace un sacco la legione, perché corre veloce e mi ricorda l'assassino di Scream. Il gioco... la odio. Vabbè... ... ... ... ... ... L'ho perso Non so che cosa sia successo L'ho lasciato curarsi Ma sapevo che sarebbe L'ho lasciato Ciao Oggi li trovo tutti Tu sei molto antipatico Ragazzi mi è stato veramente Infastidendo Dove pensavi di scappare? Senza neanche volerlo La verità è che come in una bellissima love story Torneremo sempre insieme Torneremo Dove volevi andare? Guarda parte un bagnetto Ci avete provato ragni? Beh mi metto già l'anima in pace Perché so che lei troverà la botola E si salverà Quindi Sì Boom bitch Per oggi il gameplay di Dead by Daylight Si conclude qui Fatemi sapere se vi è piaciuto Come al solito Suggeritemi nei commenti Altri videogiochi Ai quali potrei giocare Grazie per aver visto il video Ci vediamo Alla prossima E statemi bene E statemi bene Alla prossima Grazie a tutti.